Per celebrare nel migliore dei modi di 2600 anni di Akragas, uno dei telamoni che sorreggevano il maestoso Tempio di Zeus sarà montato in piedi, posizione verticale nella splendide cornice della Valle dei Templi, visibile al mondo intero. Una grande opera architettonica tra passato e futuro, avanguardia culturale e turistica per la nostra città. L'opera verrà ricostruita con i reperti originali conservati dalla sovrintendenza e beni culturali. Tonerà quindi nella sua antica bellezza con i reperti che erano stati rinvenuti dagli archeologi nell'area di scavo. La grandezza di questo gigante che componeva soltanto una piccola parte dell'edificio sacro potrà dare l'idea della magnificenza dell'architettura del tempo. Ogni gigante infatti alto 7,65 metri era il più grande dell'antichità in Sicilia e tra i più grandi dell'intera arte greca. Sarà sicuramente una grande occasione per celebrare il nuovo anno e dei 2600 anni dalla fondazione della città di Acragas, previsto naturalmente un intervento finanziario da parte degli uffici del parco archeologico diretto oggi da Roberto Scerratta, che in questo modo realizza ciò che da tempo era stato auspicato da studiosi appassionati e semplici cittadini. Agrigento celebra la grandezza dell'antica città con un'azione di recupero della propria memoria per far rivivere la nostra identità che da tutti noi merita profondo amore e rispetto.